Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo spazio di approfondimento sul video curriculum. Questo videolaboratorio è costruito e promosso da AmpelServizi, la struttura operativa dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro e io sono un tutor di AmpelServizi e in questi ultimi tre anni con un team di colleghi abbiamo collaborato nelle vostre scuole per facilitare il processo di PCTO, dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento. Questo contributo si trova all'interno di un kit o cassetta degli attrezzi molto più ampio che riguarda il self marketing. Self marketing significa marketing di se stessi, comprende tutte quelle azioni per promuovere al meglio la propria persona e la propria professionalità, in particolare per la ricerca di lavoro. Bene, allora iniziamo? Nel materiale di approfondimento troverete i link dei video che vi propongo di guardare. Adesso c'è questa clip e tu hai musica dentro? Guardiamola insieme. La clip che abbiamo appena visto è tratta dal film del 2015 Lo stagista inaspettato. Una società di Brooklyn che vende online articoli di abbigliamento avvia una campagna di assunzione di stagisti senior alla quale risponde Ben Whittaker, un vedovo settantenne annoiato dalla sua vita da pensionato e prepara un video cv. È molto interessante da guardare perché questo breve filmato mostra efficacemente cos'è un video curriculum e anche come farlo. Se avete visto si è preparato, si è vestito accuratamente, ha scelto la cravatta e vi chiedo com'era la sua postura davanti alla telecamera e cosa ha detto secondo voi di Vincente. E il selezionatore da cosa sarà rimasto colpito? Oggi quindi vedremo che cos'è un video curriculum. Quali sono gli obiettivi e i vantaggi sia per il candidato sia per l'azienda. Come realizzarlo? La tecnologia da usare, la struttura e gli aspetti comunicativi sempre molto importanti per ogni presentazione in pubblico. Qualche consiglio e poi come inviarlo e diffonderlo? Il video curriculum è un innovativo strumento per la ricerca di lavoro che può rendere più efficace il nostro contatto con le aziende e la nostra candidatura. È la presentazione di una persona in cerca di lavoro, ripresa da una telecamera e diffusa tramite internet, blog o portali. Integra il classico curriculum vitae testuale. È una sorta di approfondimento alle informazioni. Fornisce un valore aggiunto. È per questo che ci diciamo fin da subito che non deve essere una semplice lettura o ripetizione pari pari delle informazioni riportate sul cv. Non sostituisce il curriculum cartaceo ma lo integra fornendo informazioni che in forma scritta non possono essere trasmesse. Ma quando è nato questo curriculum a video? Nasce negli Stati Uniti dall'esigenza dei candidati di differenziarsi in un mare di concorrenti per attirare l'attenzione dei selezionatori. Con qualche anno di ritardo lo strumento sta riscuotendo con sensi positivi anche in Italia, soprattutto grazie a YouTube. Si tratta di un video di presentazione di se stessi, incentrato prevalentemente sulle proprie competenze, attitudini ed esperienze lavorative e formative. È una narrazione di noi stessi e a questo proposito chiediamoci fin da subito quale messaggio vogliamo veicolare. Ad esempio, desidero mettere in evidenza la mia forza di volontà o la mia intraprendenza? Voglio sottolineare la mia creatività? Voglio evidenziare che sono una persona molto puntuale o accurata o affidabile? Voglio ancora mettere in rilievo la mia curiosità, la passione e la forte motivazione nel lavoro. Quale messaggio voglio trasmettere con il mio videocurriculum? Quando usare il videocurriculum? Può essere una soluzione valida per presentare profili creativi, commerciali o se pensiamo di lavorare nell'ambito del marketing, della comunicazione, nell'arte o nello spettacolo. Profili in cui la presenza, l'espressività e la creatività possono davvero fare la differenza. Nello scegliere questa modalità di presentazione sono necessarie alcune attenzioni perché influenza sicuramente l'opinione è la prima impressione che il selezionatore si costruisce su di noi. Dobbiamo essere convinti e farlo bene quindi. Usiamo il video cv se il nostro obiettivo professionale o il nostro profilo rientra nei ruoli dove la dimensione relazionale è strategica se non essenziale. Anche se possedere una buona capacità comunicativa è importante sempre. Questo lo sappiamo. Il secondo aspetto da considerare nella scelta è anche se ci sentiamo in grado di affrontare questa modalità. Non è scontata e dobbiamo essere tranquilli e professionali nel parlare. Nel materiale troverete il link riportato qui sotto. Potrete vedere esempi efficaci di videocurriculum. Quali sono i vantaggi per il candidato? Sono davvero numerosi i vantaggi. Il videocurriculum consente di raggiungere l'azienda selezionatrice in tempi brevi. Permette di uscire dall'anonimato distinguendosi dai candidati che si affidano unicamente agli standard dei cv tradizionali. consente di far emergere le proprie competenze trasversali mettendo in luce innanzitutto le capacità comunicative ma anche la nostra creatività, la determinazione, la nostra motivazione, l'entusiasmo, l'ottimismo e non ultima la professionalità. Permette di dimostrare competenze tecniche dando spazio alla dimostrazione pratica dello svolgimento di un'attività o alla presentazione di lavori già realizzati. Evidenzia inoltre le competenze linguistiche quindi le reali capacità espressive in una lingua straniera. Altri due aspetti importanti con la modalità video possiamo partecipare a selezioni per lavori all'estero e il video può diventare quindi un colloquio di lavoro senza spostarsi fisicamente che comporterebbe sicuramente costi elevati sia per i candidati sia per le aziende. Un altro aspetto è che permette di riflettere su noi stessi e autovalutare la nostra presentazione verso l'esterno. Questo è interessante. Avete presente quando si ascolta la propria voce registrata che è diversa da come normalmente ci sentiamo? In quel caso siamo spettatori di noi stessi. Così vederci in video in una situazione formale può aiutarci a comprendere l'impressione che facciamo agli altri e di conseguenza aggiustare il tiro, migliorare alcuni aspetti. In sintesi attraverso la comunicazione verbale e non verbale è possibile esprimere e mostrare dettagli che difficilmente la scrittura riuscirebbe a trasmettere in maniera efficace. I vantaggi per l'azienda. Beh l'azienda o al selezionatore meglio interessa molto sapere qualcosa di più del candidato e con il video curriculum può vedere i candidati e comprenderne alcune capacità in diretta dal vivo. Inoltre rende la fase di preselezione più accurata e più veloce e non solo anche più agile il momento del colloquio visto che alcuni aspetti sono già stati presi in considerazione e approfonditi guardando il video curriculum. Parliamo adesso della tecnologia. Solo alcuni aspetti per il resto sul web troverete molti tutorial sui programmi necessari. Per realizzare il video possiamo usare una webcam o un dispositivo mobile che consentano però riprese con audio e video di buona qualità. Servirà successivamente un programma di montaggio per ottimizzare il video. Cercate di non essere approssimativi ma sforzatevi di curare i dettagli. Potete farvi aiutare da chi è più esperto, un amico o un cugino, un familiare o proprio un professionista. Vi ricordo che il video come il curriculum cartaceo è un mezzo, uno strumento, deve sicuramente essere padroneggiato e quindi il video costruito bene ma sei tu il protagonista quindi il contenuto, quello che dici e come lo dici sono essenziali. Aspettiamo un attimo ma come deve essere strutturato il video e se il selezionatore si addormenta mentre lo sta vedendo? Ecco alcune attenzioni. La visione e l'ascolto del video devono trasmettere la nostra originalità e professionalità. Deve essere gradevole. La durata ideale è di due minuti. E come per il curriculum vitae scritto la struttura della presentazione dovrà considerare il settore al quale intendiamo approcciarci e dovrebbe cambiare leggermente in base alle nostre esigenze e aspettative. Diciamo che deve essere mirato. Cosa dire? Non replichiamo il CV cartaceo, lo ricordo, il video deve offrire un valore aggiunto. Facciamo quindi una brevissima presentazione nome, cognome, età, titolo di studio. Descriviamo le competenze professionali e le esperienze lavorative. Descriviamo gli obiettivi professionali e la posizione per la quale ci stiamo candidando. Accenniamo ad attitudini e caratteristiche personali. Parliamo di hobby e interessi se dimostrano aspetti utili al nostro lavoro. Ci occupiamo per esempio di arte, cultura, sport o viaggi. Chiudiamo con una conclusione ad effetto. Non scordiamo di ringraziare e salutare. Ed ora 10 regoline comunicative. Alcune valgono sempre anche per un colloquio di lavoro e anche perché no per il colloquio dell'esame di stato. Ah e non datele per scontate. Sapeste quante ne raccontano i selezionatori. Scegli una location ordinata neutra e priva di elementi di distrazione. Cerca di insonorizzare al meglio la stanza. Vestiti in modo adeguato pensando all'immagine che rifletterai e se non sei un artista o un creativo scegli un look sobrio. Presentati in modo curato e ordinato. Siediti in modo composto con una postura corretta e non troppo rigida. mantieni lo sguardo verso la telecamera senza distrarti o guardare in giro. Cerca di essere sorridente e rilassato e ricordati di respirare. Parla scandendo bene le parole con il giusto volume non sussurrare né urlare. Utilizza brevissime pause per riprendere fiato e dare importanza ai diversi argomenti. Che sia in italiano o in lingua straniera attenzione alla forma e alla grammatica. Fai in modo che il non verbale sia in sintonia con il verbale. Non posso dire che sono una persona solare positiva con un tono da funerale. E dopo? Regola numero 10. È importante visionare più volte la registrazione per evidenziare i punti di forza e i passaggi da migliorare. Prova fino a quando non ottieni un risultato che ti soddisfi. Altri consigli? Guarda questo simpaticissimo video. Adesso un piccolo ripasso e qualche consiglio. Parola d'ordine preparazione. Quindi non improvvisare. Prepara tutto per bene senza ripetere a memoria ma in modo da avere chiara la presentazione. Deve valorizzarti. Fatti aiutare nella rilettura del copione e durante la registrazione. A forza di pensare e rileggere o riguardare la stessa cosa non ci accorgiamo più degli errori. E far leggere ad ascoltare a qualcun altro ci permette di cambiare punto di vista e renderci conto se quello che per noi è chiarissimo per un'altra persona è altrettanto chiaro. Prova, 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 prova. Prima di iniziare fai qualche respiro profondo per calmare l'ansia e qualche esercizio di riscaldamento della voce. Per esempio prova a scandire bene più volte sguardo gnomo. Sono gli esercizi teatrali ma altrimenti rischiamo di far fugliare. Ricordati di pronunciare sempre anche l'ultima sillaba. A volte si perde. Preparati una conclusione che lasci un buon ricordo e che non svaluti tutto quello che hai detto fino a quel momento. Quindi non usare frasi come ecco ho finito e basta tutto qui. Siamo arrivati alla conclusione. Il nostro video è pronto e dobbiamo farlo pervenire alla nostra azienda o comunque pubblicarlo e diffonderlo. Quindi può essere inviato via mail direttamente alle aziende potenzialmente interessate. Può essere inserito come link nel mio CV tradizionale che invio via mail. Oppure inserito nel web attraverso blog personali, portali, social network come YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn o su siti dedicati. Sul web esistono anche siti specializzati in videocurriculum. Abbiamo concluso il nostro percorso video. Potrete proseguire adesso con il materiale di autovalutazione che troverete in allegato nel materiale fornitovi. Vi ringrazio per l'attenzione e ricordatevi di rendervi interessanti ed attraenti. Buon lavoro!